Sono trascorsi 26 anni dal giorno in cui l'ONU ha approvato la Carta dei diritti dell'infanzia, uno strumento di fondamentale importanza per la promozione e la tutela dei diritti umani, e la FIDAP ha voluto ricordare questa giornata in un incontro tenutesi a Palazzo di Vetro, focalizzando l'attenzione sugli occhi smarriti di quei 4.056 minori stranieri non accompagnati che dall'inizio dell'anno hanno attraversato su barconi fatiscenti il Mediterraneo per raggiungere le coste italiane, bambini invisibili che rischiano di essere facile preda di circuito di sfruttamento sessuale e lavorativo della criminalità organizzata, uno su cento a Catanzaro è vittima di maltrattamenti e uno dei dati allarmanti emersi durante il convegno organizzato dalla FIDAPA al quale è anche partecipato il presidente dell'ente intermedio Enzo Bruno. I ragazzi presenti nella sala giunta della provincia hanno interpretato la Carta dei diritti del fanciullo con l'aiuto di esperti, un momento formativo per ricordare i diritti negati di tanti adolescenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!